Sono cinque i comuni che dovranno attendere il secondo turno in provincia di Salerno per eleggere i nuovi sindaci. Non hanno superato la soglia del 50% i candidati dei grandi comuni della provincia e così domenica 9 giugno si tornerà a votare a Pagani, Sarno, Scafati, Baronissi e Capaccio. 44 nuovi primi cittadini della provincia di Salerno sono invece già stati eletti al primo turno tra riconferme e new entry. E' già nuova campagna elettorale in cinque città. A Pagani, nonostante abbia sfiorato l'elezione al primo turno, il candidato del centrodestra Alberico Gambino che ha ricevuto 10.241 voti con una percentuale del 49,06% dovrà vedersela con il sindaco uscente Salvatore Bottone, espressione di una coalizione di centrosinistra che ha raccolto il 25,73% dei consensi con 5.373 preferenze. A Sarno il sindaco uscente, anche qui espressione del centrosinistra Giuseppe Canfora, non sfonda con il 44,06% corrispondente a 8.174 voti e affronterà al ballottaggio il candidato Giovanni Cocca, leader di un movimento civico che ha raccolto il 31,70% dei consensi con 5.881 voti. A Scafate, al turno di ballottaggio, il candidato del centrodestra Cristoforo Salvati che ha riportato il 28,45 con 7.925 voti e Michele Russo, espressione del centrosinistra con il 21,06% pari a 5.867 preferenze. Secondo turno anche per i candidati di Capaccio Pestum, Franco Alfieri con il 47,51% e 6.472 voti per lui ed Italo Vozza con il 27,06% e 3.686 preferenze. A Baronissi, al secondo turno, il sindaco uscente di centrosinistra Gianfranco Valiante con il 47,58% scontrerà Luca Galdi che ha riportato il 30,99%. Grazie a tutti.